Evento di chiusura del percorso dei fondi europei del piano operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Questa mattina alla sala del parlamentino della regione Molise l'assessore Angelo Michele Iorio ha accolto i responsabili dei progetti approvati annunciando i nuovi percorsi di impegno. Lo slogan che ha riguardato il percorso di individuazione dei fondi del programma operativo regionale nelle definizioni del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 è stato quello di in volo verso il futuro volendo sottolineare la scelta di individuare quei modelli economici ed imprenditoriali fatti di enorme possibilità di crescita per la loro natura di eccellenza internazionale. Questa mattina c'è stata la chiusura della fase con il racconto dei progetti ma anche il nuovo punto di partenza per le determinazioni di domani. Chiudiamo una programmazione già eseguita sostanzialmente con la soddisfazione comunque di non aver perso risorse e quindi anche nella fase finale attuato delle iniziative per non perderle. Ma siamo impegnatissimi e lo faremo con altri incontri di questo genere sulla prossima programmazione che è rivoluzionaria rispetto al passato. Nell'epoca del PNRR non è più consentito utilizzare i fondi per settori ma bisogna cercare di coordinare la programmazione in maniera che il PR e l'FSC, cioè Fondo Europeo, Fondo Nazionale e Regionale, si intersecano per raggiungere degli obiettivi sempre maggiori. Cioè non ripetere le cose ma essere complementari. Questo è uno sforzo che stiamo facendo e abbiamo a disposizione degli strumenti straordinari perché nei prossimi 4 anni o 5 anni noi dobbiamo impegnare oltre un miliardo di risorse e abbiamo anche l'esigenza di confrontarci con le nuove realtà. Per esempio per quanto riguarda le attività imprenditoriali non è da trascurare il decreto sud che ha realizzato un obiettivo straordinario quello di allargare la ZES, cioè i territori molisani sono tutti vocati e tutti si prestano a poter offrire soluzioni fiscalmente vantaggiose rispetto al resto del Paese. E quindi questo per tutti gli imprenditori credo che sia un fatto straordinario. Se aggiungiamo che questo vantaggio si può sommare con gli aiuti dell'obiettivo 1, quello europeo e quello nazionale beh significa che l'incoraggiamento a poter riprendere un'attività imprenditoriale è notevole e questa è una carta vincente per il futuro. Oltre naturalmente a tutte le infrastrutture, i collegamenti viari tra Trignina e Bifernina lo stimolo che daremo al governo per risolvere il problema della congiungente Tirreno-Adriatica che io continuo a chiamare autostrada sarà notevole, anche se non lo faremo con questi fondi sicuramente ma dovrà essere il governo a pensarci e io credo che questi prossimi anni siano anni di impegno notevole. Apriremo una fase di consultazione molto aperta a tutti i settori della società molisana non solo in consiglio regionale con le opposizioni ma anche nella società, insomma ascolteremo tutti e cerchiamo di lavorare insieme per fare il bene del Molise.